Buon viaggio da Firenze Smart, Mauro Ciutini in studio. Code per un incidente sulla A1, il tratto interessato è tra Chiusi e Fabro in direzione di Roma. Passiamo alla Firenze e Pisa-Livorno, materiali dispersi tra Empoli Ovest e San Miniato in direzione Livorno. Prudenza sulla A11 segnalato un veicolo in fiamme tra Monte Catini-Terme e Chiesina-Ozanese in direzione di Pisa. Code a tratti fino a 2 km sulla A15, tra il B via A15 d'accordo Lerici e La Spezia in direzione di Parma. Finiamo alla Strea Segna, domani 6 luglio dalle 10 alle 11, via Vecchia Pisana sarà chiusa al traffico veicolare nel tratto da Piazza Piave a via Lippi per un controllo e una video ispezione alla rete fognaria. Per il momento è tutto, Maversini Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana, Comune di Firenze, e guidate con prudenza. A dopo.